è stata una partita tosta volevamo sapevamo che sarebbe stata una partita intensa abbiamo abbiamo lottato abbiamo siamo andati sotto poi con le unghie coi denti pur non giocando una gran pallavolo siamo riusciti a ritornare lì anche loro hanno fatto una gran partita noi a tratti siamo stati imprecisi soprattutto in fase di contrattacco nelle gestioni un po dei palloni semplici ci sta ci teniamo buona la reazione peccato il quinto set non essere riusciti a partire subito con lo spirito della della fine del quarto dobbiamo lavorare perché dobbiamo essere più precisi in certe fasi di contrattacco perché se no nelle partite alla fine quel qualcosina in più non riusciamo a tirarlo fuori secondo me abbiamo fatto bene a non molare dopo due set che che eravamo sotto abbiamo fatto abbiamo mostrato tanto spirito di squadra di non molare i momenti difficili perché ci sembrava mille volte che magari possiamo vincere o perdere set ma è sempre finito dall'altro lato e noi noi siamo rimasti la combattere ci abbiamo fatto a vincere quei due set è peccato che non abbiamo finita con tie break perché secondo me potevamo potevamo vincere adesso dobbiamo fare testa dobbiamo mettere testa bassa e tornare a casa a lavorare il quinto set era nelle aspettative se le aspettavamo perché la settimana che avevamo fatto e per l'avversario che incontravamo e sapevamo i risultati in casa che aveva fatto questa squadra qua era non non era nelle aspettative un approccio così morbido io capisco viaggi tutto quanto però dentro alle partite bisogna entrare in maniera diversa perché si vede anche nella giornata di oggi che tutti lottano e bisogna assolutamente da questo punto di vista qua cambiare marcia